I figli sono la gioia della famiglia e della società, non sono un problema di biologia riproduttiva né uno dei tanti modi di realizzarsi. I figli sono un dono. All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Francesco ha dedicato la catechesi al tema dei figli, precisando che ciascuno è unico e irripetibile. Essere figli dunque ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell'amore che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima, prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo, prima di saper parlare o pensare, addirittura prima di venire al mondo. Il pontefice ha riconosciuto le difficoltà che oggi incontrano i figli a immaginare il loro futuro, ma ha ricordato che il Padre Celeste ci ama con pazienza e ci segue nei passi della vita, incoraggiandoci a costruire un mondo nuovo. Auspicando una sempre più forte armonia fra le generazioni, Papa Bergoglio ha infine ricordato che ai genitori bisogna sempre rendere onore. Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore. Quando non si onora i genitori, si perde il proprio onore. è una società destinata a riempirsi di giovani aridi e avidi, però anche una società avara di generazioni che non ama circondarsi di figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio, è una società di pressa. Pensiamo a tante società che conosciamo qui in Europa. Sono società di prese, perché non vogliono i figli, non hanno i figli. Il livello di nascita non arriva all'1%, perché ognuno di noi la pensi e risponde.